In un mondo abbandonato dove l'aria stessa è diventata un veleno che infetta, si è innescata una metamorfosi spaventosa. Ciò che una volta fu il tessuto urbano pulsante di vita è ora un labirinto di rovine, un palcoscenico macabro per la sopravvivenza. Nell'universo di The Last of Us il Cordyceps non è solo un parassita biologico, ma anche il catalizzatore di una tragedia umana, la trasformazione da ordinaria esistenza a lotta per la sopravvivenza. La genesi del Cordyceps all'interno del corpo umano, per quanto abbia dei risvolti spaventosi e agghiaccianti, segue tuttavia un percorso biologico veramente interessante e soprattutto intelligente. Del resto, se questo parassita è riuscito ad espandersi ad una tale velocità, vanificando ogni tentativo di contenimento e riducendo ad oltre il 60% la popolazione umana, dovrà esserci una ragione. Vediamo allora insieme come avviene la sua crescita, a partire dal momento dell'infezione. Ma prima, bentornati o se siete nuovi benvenuti mi presento Io sono Ilaria Gentili, per gli amici del web Shasem, e sui miei canali mi occupo di divulgazione e approfondimento di tanta narrativa e studio di quel fantastico medium che è il videogioco. Per prima cosa è importante mettere in evidenza tre fattori che hanno contribuito alla sua propagazione. Numero uno, la mancanza di un sistema immunitario adeguato. Solitamente il corpo umano mette in azione una serie di contromisure per combattere al meglio le infezioni, come l'aumento della temperatura o il gonfiore della zona interessata. Ma a quanto pare il Cordyceps possiede la capacità di sopprimere l'attivazione di tutti i meccanismi di difesa, così da poter iniziare indisturbato il proprio processo di insediamento. Numero due, la diffusione aerea delle spore. Se è un caso fortunato riuscire a scappare da una creatura che ti insegue ed evitare di essere morsi, ha una percentuale ben più ridotta la possibilità di accorgersi di aver respirato delle spore infette. E questo ci lega alla motivazione numero tre, il carattere subdolo della prima fase di contaminazione. Nei primi due giorni la vittima è totalmente ignara di quel che sta per capitargli. Nessun sintomo, nessun cambiamento fisico che permetta di intuire la presenza del fungo. E come se non bastasse, quando arrivano i primi sintomi sono prettamente a livello comportamentale e quindi sottovalutabili e fraintendibili. Questo è il motivo per cui ci si è ritrovati con amici, parenti o semplici conoscenti infetti nelle proprie abitazioni. E l'essere umano è diventato il mezzo di trasmissione più efficace. Una volta penetrato all'interno del flusso sanguigno, il Cordyceps si fa immediatamente strada verso il fluido cerebro spinale che si trova nel sistema nervoso centrale. Gli basta poi un brevissimo periodo di incubazione per raggiungere il suo primo obiettivo, l'amigdala, all'interno del sistema linfatico. Grazie a lei possiamo interpretare gli stimoli che riceviamo in base alla nostra esperienza, associandovi specifiche emozioni come rabbia o paura. Compromettendola, il fungo la rende ancora più ipersensibile di quanto essa già sia, interpretando ogni stimolo in modo negativo e portando il soggetto ad agire in modo aggressivo, quasi come fosse un animale. Il secondo obiettivo è l'ipotalamo, responsabile della gestione delle emozioni e al processamento della memoria, ma anche alla gestione dell'appetito. Avrete già capito che inibendolo e prendendone il controllo, l'obiettivo del soggetto sarà quello di cibarsi oltre qualsiasi misura fisica e soprattutto morale. A questo punto avviene la cosa più orribile. Mentre la amigdala e l'ipotalamo vengono corrotti, il cervello rimane cosciente che la propria reazione agli stimoli è sbagliata. La coscienza dell'individuo non è stata ancora sovrascritta, e questo significa che l'uomo non può controllare la propria reazione fisica, ma è perfettamente consapevole di ciò che sta facendo. Questo contrasto che avviene all'interno del cervello spiega molti degli atteggiamenti che caratterizzano gli infetti, soprattutto quelli del primo stadio, i runner. Alcuni frustrati dall'incapacità di controllarsi sono preda di gesti impulsivi dettati dalla rabbia, altri hanno ancora la facoltà di scegliere di non inseguire una potenziale preda, altri ancora manifestano emozioni mentre compiono gesti efferati. Ricorderete tutti la donna runner intenta accebarsi di un uomo mentre piange disperata. Anche per questo motivo a volte, quando alcuni esemplari vengono colpiti, il dolore causato dalle ferite li fa titubare. Quella parte di cervello ancora cosciente ha l'istinto di autopreservazione, mentre il fungo spinge il corpo ad agire senza curarsi delle conseguenze. Mano a mano che il sistema nervoso centrale e il cervello si piegano al volere del fungo, dato che gli impulsi nervosi non sono più presi e calibrati, e iniziano le prime variazioni a livello fisico, come lo scolorimento della pelle e la caduta dei capelli. Con il passare dei giorni, il fungo inizia la crescita vera e propria, come quella di una pianta. Inizia quindi a crearsi il suo spazio all'interno del cranio, e il primo posto in cui gli viene comodo crescere è in direzione delle orbite. Inizia quindi a fare pressione contro il nervo ottico, e così facendo determina la progressiva perdita della vista. Il processo richiede dai sette giorni alle quattro settimane, e in questo lasso di tempo in cui la coscienza finisce di spirare, possiamo dire che l'unica cosa umana che ancora gli sopravvive è un barlume di intelligenza. Mi spiego. Rispetto a quando era un semplice runner, in cui la paura poteva ancora influenzarne le azioni, adesso l'infetto ha una tendenza a preferire luoghi pieni di ripari e nascondigli, in attesa di aggredire la preda di sorpresa. Questo perché ormai non c'è più resistenza da parte del cervello, verso quello che si sta diventando. Ma quel rimasuglio di intelligenza viene utilizzato per assecondare le nuove necessità del corpo. Dei predatori di prima categoria, capaci anche di fare gruppo, che non mollano finché non raggiungono il loro obiettivo. Oppure muoiono nel provarci dei veri e propri stalker. La morfologia del viso inizia ai primi cambiamenti, con protuberanze fungine che emergono da uno o da entrambi gli occhi, mentre il resto del corpo è pressoché uguale. Tuttavia è presente un cambiamento nascosto, che emerge solo se ci approcciamo agli stalker corpo a corpo. Se un uomo come Joel non ha problemi a surclassare un individuo infetto al primo stadio, adesso l'esito dello scontro non è più scontato. Nel nostro processo evolutivo abbiamo rimodellato la nostra massa muscolare, adeguandola alle nuove esigenze. Questa è andata diminuendo, mentre lo spazio riservato al cervello è andato man mano aumentando. La selezione naturale infatti favoriva specie più piccole e intelligenti, a cui per esempio non serviva una mascella massiccia per masticare della carne cruda. La carne dopo tutto poteva essere cotta e intenerita. Un cervello più grande manda i muscoli dei segnali elettrici estremamente precisi, per cui riescono a contrarsi con il giusto quantitativo di forza secondo necessità, senza superarne i limiti fisici e rischiare che essi si danneggino. Il dolore che sentiamo nei muscoli dopo uno sforzo non deriva dai muscoli stessi, ma da una parte del nostro cervello che dice ad un'altra parte che è il momento di fermarsi. Inoltre il cervello di solito attua costantemente anche in un lavoro di cernita delle informazioni che riceve, altrimenti rischierebbe di impazzire. Ormai negli stalker ogni cosa è convertita in forza fisica e movimento. Non ci sono più freni, quindi la loro visione d'insieme, fatta di suoni, odori e tatto, permette loro di percepire se qualcuno è in avvicinamento e di agire di conseguenza. Sembreranno pure deperiti, ma in realtà sono più forti di quel che sembrano e consapevoli di tutte le informazioni in entrata, diventando dei cacciatori fenomenali. Avendo iniziato la loro prima fase di sviluppo all'interno del cranio, il cervello è ancora operativo, per quanto sovrascritto dalla volontà del fungo, per cui una buona tecnica per eliminarli invece di ingaggiare il corpo a corpo è quella di sparargli colpendo la testa. Tuttavia uno stalker isolato oppure abile a cacciare continua a sopravvivere, nonostante l'avanzata inesorabile della crescita e diffusione dell'infezione all'interno del suo corpo. Se in natura il processo uccide la creatura ospite, vediamo come il cordyceps ha più da guadagnare se la sua vittima rimane viva. Riprendiamo un punto essenziale di cui parlavamo poco prima. La perdita progressiva della vista. La crescita verso il lobo frontale, un passo alla volta, ha invaso il tessuto intorno a sé, consumandolo fino a distruggere entrambe le orbite, e la cavità nasale, arrivando persino a spaccare anche la mascella. Così il fungo si è letteralmente scavato il suo spazio, e il risultato è questa fioritura fungina radicata dove un tempo c'era il cervello, lasciando l'ospite completamente cieco, ma fornendo in cambio una sorta di secondo scheletro, duro e difficile da intaccare con i proiettili, come protezione verso se stesso. E per adattarsi alla sua nuova condizione, la perdita della vista viene compensata dallo sviluppo di un udito in un primordiale sistema di ecolocalizzazione, simile a quello utilizzato dai pipistrelli, sfruttando quel suono che si era già iniziato a sviluppare in precedenza. Un susseguirsi di click. I clicker in questa maniera sono perfettamente orientati nello spazio, nonostante la cecità, il che li rende particolarmente insidiosi. Anche se, a meno che di udire un suono distintivo, questi non partono alla carica. Il miglior approccio sarebbe quello di aggirarli piuttosto che sfidare la sorte, e anche in quel caso il tessuto fungino non è facile da intaccare. Quindi armatevi di mazza o affini se volete affrontarli, e preparatevi alla forza con cui opporranno resistenza. La bocca, infatti, nonostante la brutale spaccatura, è ancora perfettamente funzionale, per mordere e farlo anche con ferocia. Quindi è sempre meglio tenersi alla larga. Anatomicamente il fungo oltre alla testa si è ben diffuso anche sul collo, spalle e sul torace, mentre internamente si è fatto strada verso l'intestino, così da poter attingere direttamente a una fonte di nutrimento per prosperare. Nonostante del cervello sia rimasto ben poco, alcune parti devono ancora restare attive, per poter consentire al corpo di muoversi, e quindi devono poter continuare a mandare e a ricevere segnali. I click. Anche se di umanità o autopreservazione non è rimasta traccia. Riflettiamo ora però sul periodo di sopravvivenza di un clicker, che per arrivare a questo stadio deve essere sopravvissuto almeno un anno. Cosa che con esseri umani armati fino ai denti di solito è difficile. Come dicevo prima, il cordyceps non agisce come il fungo in natura, che finisce con il consumare interamente il suo ospite. Qui assistiamo ad uno scambio simbiotico, in cui se dapprima è il fungo a nutrirsi dell'essere umano, ora è lui che inizia a produrre glucosio per permettere al corpo di sopravvivere anche in mancanza di nutrimento, e per non deperire. È anche probabile che assuma il ruolo di sistema immunitario, sostitutivo di quello umano, che ha soppresso così da permettergli di prosperare, altrimenti se semplicemente morisse non potrebbe più diffondersi in modo ugualmente efficace, raccapricciante, ma intelligente. Sulla scia di questo discorso, pensiamo a quanti all'epoca dello scoppio della pandemia si possono essere barricati in gruppi, o anche da soli all'interno di edifici, per sfuggire agli infetti. E pensiamo alla probabilità che qualcuno di loro, nel mentre, stesse incubando le spore del fungo. Il risultato deve essere stato quello di ritrovarsi un gruppo di infetti incapaci di fuoriuscire dai luoghi in cui si erano relegati, oppure di singoli runner incapaci di nutrirsi. Come abbiamo visto, il fungo ha i suoi interessi nel mantenere il proprio ospite in vita. Quindi quei processi che si erano attivati nei precedenti stadi, adesso vanno elaborandosi sempre di più. Con potenzialmente dieci anni di proliferazione di cordyceps alle spalle, il bloater non ha più nulla di vagamente simile all'essere umano, se non fosse per il fatto che ha due gambe e due braccia. La sua massa è aumentata esponenzialmente, ed il fungo si è ormai riprodotto quasi ovunque sulla superficie della pelle. Rendendolo oltre che potente, anche particolarmente coriaceo, il suo sistema di ecolocalizzazione si è arrugginito, per via della deformazione causata alla testa. E per lo stesso motivo i suoi movimenti sono più lenti di quelli di un clicker. Ma ha trovato un sistema alternativo per poter essere ugualmente letale. Una serie di orribili rigonfiamenti colmi di spore che possono essere lanciati in direzione della vittima, per poterla rallentare e raggiungere successivamente, e anche in modo più goffo e impacciato. Qualsiasi infetto ha le potenzialità di diventare un bloater. Tuttavia questo avvenimento è da considerarsi un avvento dettato da determinate condizioni. Prima di tutte, l'isolamento. In mancanza di stimoli, il corpo infetto ha limitato i movimenti. Cercando di assorbire nutrimento come possibile, e risparmiando energia, cosa che probabilmente ha portato all'aumento di massa. Secondo, l'ambiente comunque doveva presentare delle condizioni favorevoli a questa sopravvivenza, in quanto il fungo deve aver potuto mettere in atto il suo processo di assorbimento di nutrimenti, così da garantire la sopravvivenza dell'ospite. Vediamo infatti la presenza, come di radici del fungo, sulle pareti e sui soffitti, dove questo deve essersi aggrappato per ricavare ciò di cui poteva aver bisogno, per garantire un apporto sufficiente di risorse al suo ospite. E terzo, l'ispessimento della superficie fungina, che è dovuto anche al prolungato assorbimento del calcio derivante dalle ossa, che ha contribuito all'indurimento di questa corazza. Per questo è incredibilmente resistente agli impatti e ai proiettili, ma anche assai vulnerabile al fuoco. Sempre a causa della situazione specifica già elencata, con l'aggiunta di un fattore ambientale, nel Pacific Northwest e in particolare a Seattle, è stata registrata una variante alternativa del bloater. Il lasso temporale di sviluppo si equivale, aggirandosi intorno ai 10 anni, ma ad aggiungersi in questo caso ci sono le condizioni atmosferiche, legate ovviamente alla presenza dell'oceano, oppure alla presenza di alta umidità in luoghi apparentemente asciutti, ma che l'hanno accumulata per altri motivi. Così è venuto al mondo il secondo caso più raro di infezione, lo shambler, che deve il suo nome al verbo inglese to shamble, che indica il suo andamento unico e inconfondibile. Questi esseri sono meno massicci del bloater, e non hanno bolle di spore da lanciarci. In compenso, per via della forte umidità, hanno sviluppato un grappolo di bolle che ha colonizzato e immobilizzato il collo, e che esplodono al minimo movimento, causando ingenti danni oltre che a possedere micotossine che rilasciano a loro volta spore. Anche in questo caso, quindi osserviamo come il fungo abbia fatto in modo di adattarsi all'ambiente in cui si trovava, e ha sviluppato una nuova abilità per sopravvivere, in mancanza della possibilità di mordere, visto che l'accumulo di queste bolle acide, che sono particolarmente sensibili al movimento. Inoltre, la struttura modico-razza che si era creata nel bloater ora è praticamente inesistente, dal momento che, quando queste bolle esplodono, anche il corpo dello Schambler ne subisce l'effetto, ed è per questo che sono scempiati, rossi e gonfi, come preda di una reazione allergica. Come se non bastasse, bisogna allontanarsi, perché una volta uccisi possono addirittura esplodere, e dare il via ad un'ultima propagazione delle spore. Nulla esclude che, sopravvivendo, anche in circostanze diverse, l'evoluzione del corpo degli infetti non possa assumere queste caratteristiche. Ma la presenza di questi elementi ambientali sembra una spiegazione più che logica. La ritenzione idrica, invece, sembra in questo caso specifico la spiegazione più plausibile a giustificare le loro fattezze fisiche. Bene, e con questo abbiamo finito, direi di salutarci, quindi... No. Certo che no. Come dimenticare, dopo tutto l'abominio rimasto segregato per anni ed anni nell'ospedale sperimentale, e che aspettava solo che una povera ebby si inoltrasse nella sua tana per farla a pezzi nel modo più orribile possibile. Assistiamo ad un caso unico. Un luogo di raccolta dei primi infetti, parliamo di centinaia di persone, di studio della malattia e di tentativi di curarla, per poi divenire di colpo inaccessibile e rimasto sigillato da allora a chiunque. Ma cosa è successo nel mentre al suo interno? Un massacro sicuramente che si è concluso con l'estremo tentativo di sopravvivenza, che ha fatto sì che i corpi degli infetti morti diventassero un tutt'uno con la struttura e un tutt'uno tra di loro. Nelle profondità di questo luogo poi troviamo lui, il re della sopravvivenza, che è sopravvissuto alle spalle di tutti gli altri, il re dei ratti, il rat king. Un gigantesco ammasso di corpi diversi, un mare di braccia, bocche e gambe che ha un unico spassionato desiderio di carne umana. Sfuggirgli è difficoltoso, perché questa creatura è di base un bloater a cui man mano si sono aggregati clicker, stalker e runner, che fondono assieme le loro abilità di velocità, forza ed ecolocalizzazione, rimaste inutilizzate per decenni. Ma come è stata possibile una fusione del genere? Impossibilitati a fuggire, i corpi degli infetti hanno creato legami fisici e chimici tra di loro, pur di riuscire a rimanere in vita. I runner e gli stalker più deboli sono rimasti a contornare l'ambiente, fondendosi con muri e pareti, mentre altri ne hanno potuto trarre profitto continuando a crescere. Ma 25 anni sono tanti, e quindi l'ultima condizione di sopravvivenza deve essere stata quella di portare le creature rimanenti ad avvicinarsi tra di loro, per condividere nutrienti e sopravvivere, fondendosi progressivamente fino a rimanere fermi e in silenzio in quell'oscurità di morte. Fusi in quella mostruosità, tuttavia, ogni corpo è indipendente e si slancia verso il suo obiettivo. Non si curano l'uno dell'altro, tanto che, subendo un certo ammontare di danni, parte di questi corpi si stacca pur di non interrompere la corsa sfrenata del Rat King. L'apice degli abomini, quest'essere, vive di un solo impulso elettrico che lo indirizza verso la preda, mentre di chi possa essere stato lui o le creature che lo compongono, non c'è dato saperlo. Una cosa sopravvissuta per inerzia, sfruttando tutto quello che aveva a disposizione, tutti quelli che aveva a disposizione. La rappresentazione dell'umanità perduta per sempre, in favore della mostruosità, oppure la rappresentazione della mostruosità che è l'umanità stessa. E voi che ne pensate?